questo computer. Perfetto. Benissimo. Iniziamo. Allora, buonasera a tutti gli amici che ci seguono dalla pagina Facebook del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Eh oggi siamo qui per un webinar eh dedicato alla conservazione dell'apis mellifera ligustica in occasione della giornata mondiale delle api che si celebra a livello internazionale il il ventimaggio cioè domani ehm questo webinar si inserisce all'interno del progetto Be Safe del Parco Nazionale dei Monti Sibillini realizzato nell'ambito della direttiva biodiversità del Ministero della Transizione Ecologica che dal duemila e diciannove promuove in tutti i parchi nazionali progetti per la tutela degli insetti eh impollinatori. Il Parco Nazionale dei Sibillini ha deciso di dedicare una un'attività specifica per la tutela della della sottospecie endemica di apis mellifera e oggi approfondiremo proprio le caratteristiche di questa sottospecie e le strategie per la per la sua conservazione. Lo faremo eh anche contestualizzando il progetto anche nell'ambito eh del del ricruppamento dei parchi nazionali dell'Italia centrale e eh parleremo anche della valorizzazione di questa sottospecie nell'ambito di un progetto life eh dedicato alla tutela dell'orso marsicano con il contributo del Parco Nazionale della della Maiella. Eh io informo tutti che questo webinar viene registrato e la registrazione sarà poi disponibile sui canali web del del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e tutti coloro che vogliono eh presentare domande e osservazioni durante gli interventi ai diversi relatori che si susseguono eh possono farlo inserendo le domande nel commento eh alla pagina la pagina Facebook e provvederemo poi noi al termine delle relazioni a girarle ai ai relatori interessati. Io lascio a questo punto la parola al presidente del Parco per eh per i saluti e riprendo poi la parola al termine per eh moderare gli altri interventi. Grazie a tutti. Grazie. Buonasera. Grazie dottor Ferroni. Mi sentite bene? Sì. Bene. Io eh ringrazio per eh questo coinvolgimento che mi permette di portare i saluti miei personali anche quelli dell'ente che che rappresento. Come parco dei Sibillini siamo molto contenti di far parte di un cluster che ci vede in collaborazione con altri cinque parchi dell'Appennino centrale per trovare insieme strategie di salvaguardia nei confronti dei degli insetti impollinatori la cui importanza nel nel contesto ecosistemico è ben nota a tutti. Oggi ascolteremo quella che possiamo considerare una costola di questo progetto principale eh appunto sul eh riferito alla salvaguardia degli insetti impollinatori finanziato dal Ministero eh dicevo una costola che mh è relativa appunto all'Ape mellifera ligustica un'ape resiliente come è stata definita anche nel titolo del webinar. Eh a questo proposito eh desidero eh salutare anche il professor Gardi che ho avuto il piacere anche di conoscere personalmente. Piacere a mio. Grazie professore. Un progetto anche questo particolarmente importante e ben strutturato che ritengo abbia anche un merito particolare che mi piace sottolineare coinvolto gli apicoltori eh mi pare eh professor Gardi se non sbaglio diciotto aziende in un connubio tra eh scienza ricerca e parte pratico applicativa insomma un progetto concertato dal basso che sono certo darà dei risultati estremamente significativi. Con questo vi saluto ancora e vi auguro un buon ascolto a tutti coloro che sono collegati. Grazie. Grazie presidente. Franco il microfono. Mi sentite? Perfetto. Allora iniziamo il nostro webinar con gli interventi che sono programmati in programma eh darei la parola subito a Giorgio Davini che ci racconta velocemente eh le l'impostazione delle attività del raggruppamento dei parchi nazionali dell'Italia centrale in attuazione delle direttive del Ministero della Transizione Ecologica per la tutela della biodiversità. Giorgio ci sei? Sì? Ci sentite? Sì ti sentiamo. Oh perfetto. Chiedo scusa. Sì grazie chiedo scusa per il ritardo ma purtroppo non eh riuscivo a connettermi dall'ufficio quindi come vedete sono in macchia sono dovuto andare via e quindi ho dovuto attendere che la connessione tornasse al mio cellulare. Eh grazie per per l'invito eh ai nostri cugini del parco dei Sibillini eh come tutti sapete noi condividiamo insomma anche porzioni di territorio con questi parchi che è sottolinea effettivamente lo stretto rapporto che eh c'è eh sulla carta eh solo per rappresentare l'importanza che hanno assunto per fortuna direi in questi ultimi anni eh gli impollinatori gli insetti impollinatori eh nella tutela della biodiversità eh generale ma anche per chi si occupa eh di agricoltura anche per la per l'agricoltura perché sono eh comunque essenziali come sicuramente tutti sapranno eh gli insetti impollinatori in particolare l'ape l'ape domestica che non si dovrebbe chiamare tale comunque l'ape da miele eh l'ape ligustica la nostra specie italiana è essenziale eh per la maggior parte delle specie che poi vegetali che troviamo sulle nostre tavole frutta e verdura eh e quindi anche per il comparto agricolo l'apporto eh dato da le api è essenziale ma non solo eh sappiamo bene l'attività anche dei bombi che viene ormai praticata da tanti anni all'interno delle serre come agenti impollinatori primari perché le aree protette sono così interessate beh insomma la parola biodiversità e la tutela eh fortunatamente eh se ne fanno pieno carico eh le nostre aree protette i parchi nazionali le riserve eh naturali anche i parchi regionali quindi tra i nostri obiettivi principali e eh comunque dobbiamo considerare il fortissimo rapporto che c'è tra questi insetti impollinatori e eh le piante a cominciare da quelle spontanee un rapporto che è veramente eh si affonda proprio le le radici nella notte dei tempi perché eh come eh non si sa bene se è nata prima l'uovo la gallina non si sa che in questo caso se le piante hanno sfruttato gli insetti o gli insetti invece approfittano eh dei prodotti dei fiori per eh ottenere l'alimentazione ma fornire questo esercizio si tratta sostanzialmente di un mutuo scambio eh che è alla base poi della moltiplicazione di tutte le angiosperme quindi insomma le piante superiori si moltiplica in buona parte in questo modo per l'impollinazione entomofila come si chiama e e quindi è un elemento essenziale direi per la eh moltiplicazione delle piante e soprattutto attraverso la fecondazione incrociata per il rimescolamento genetico che è un elemento essenziale per la vita sulla terra per questo è importante l'apporto degli insetti impollinatori è fondamentale eh la loro presenza non solo all'interno delle aree protette non solo nei campi coltivati anzi anzi eh è compito eh perché no anche dei parchi eh quello di trovare anche soluzioni perché ritorni questa biodiversità non solo attraverso le Giorgio ti abbiamo perso Giorgio non ti sentiamo più non so se il problema è solo mio ha il microfono spento Giorgio hai spento il microfono mi sentite? Sì ok vai vai in chiusura magari dici qualcosa quindi vi dicevo allora eh quindi dicevo già da alcuni anni fortunatamente il nostro ministero ora della transizione eh ecologica eh attraverso la direttiva biodiversità ha dato una sterzata a questi studi a queste ricerche mettendo al centro gli insetti impollinatori e quindi eh il nostro raggruppamento parchi che è quello costituito da di tre parchi abruzzesi oltre ovviamente a quello che ci ospita dei Sibillini ma aggiungiamo anche le foreste casentinesi e il parco dell'appennino tostoemiliano eh si sono uniti diciamo così in questa asse appenninico eh mettendo in campo una serie di azioni congiunte e condivise eh appunto interessanti gli insetti impollinatori sicuramente non traspuriamo le api con le quali abbiamo comunque un un rapporto continuo e anzi approfitto qui per lanciare eh a tutti voi eh la seconda edizione del concorso e miglior miele dei parchi dell'appennino duemilaventidue che mh proseguirà per la valorizzazione di questo comparto dell'attività pistica all'interno delle aree protette ma parallelamente abbiamo tutta una serie di progettualità messe in campo grazie anche al contributo alla nostra fortuna di avere dei partner scientifici di altissimo livello diciamo i migliori sicuramente che può esprimere il nostro eh il nostro zoma del raggruppamento universitario e quindi con le convenzioni eh con Roma l'università Tor Vergato l'università di Firenze con la quale studiamo i lepidotteri eh per passare poi agli apoidei in generale con l'università di Pisa in particolare il centro di ricerca avanzi per finire al CREA di Bologna insomma abbiamo messo in campo tutta una serie di eccellenze di studiosi che operano con noi all'interno delle aree protette per monitorare che la fase di censimento eh è ormai eh avvenuta e superata anzi abbiamo avuto grandissimi risultati con piacevoli scoperte e riscoperte di specie eh molto rare sui nostri territori e ora siamo nella fase invece di monitoraggio per cui eh sentiamo un po' tastiamo il polso di questi insetti impollinatori con particolare riferimento ahimè ai cambiamenti climatici a questo rischio di innalzamento termico il caldo di questi giorni che nettamente superiore la media eh ce lo ricorda questo innalzamento termico porta la maggior parte delle delle specie a salire più in in quota eh e il problema è che quando finirà la montagna le questi insetti non riusciranno più a salire oltre quindi insomma eh questo monitoraggio vuole quindi anche eh valutare il processo quanto è rapido di questo di questa contrazione delle specie sempre più in quota perché evidentemente eh in basso non riescono più a trovare le condizioni ideali sicuramente noi dei parchi abbiamo preso a cuore diciamo così questi piccoli insetti che forse non sono sempre stati trascurati fin finora e ci stiamo strutturando con non senza difficoltà nel poter eh proseguire anche con le nostre forze in questo ruolo importante di eh controllo monitoraggio ma soprattutto azioni concrete sul territorio perché poi tutti questi dati scientifici devono essere necessariamente trasformati in qualcosa di concreto quanto meno attraverso azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica questo essenziale dei residenti all'interno delle aree protette eh adesso siamo ne cito solo una siamo alle porte dell'estate purtroppo in molti comuni vediamo ricorrere una pratica assolutamente inutile che è quella della demuscazione no eh che sì è vero elimina eh le mosche fastidiose per un paio di giorni però crea seri danni eh agli altri insetti impollinatori l'allarme ci viene da da tanti apicoltori che vedono eh morire le loro api dopo questi trattamenti ebbene purtroppo all'interno delle aree protette succede succede anche questo e quindi l'opera è quella di sensibilizzare anche le amministrazioni comunali ad evitare dei trattamenti o a cercare soluzioni soluzioni alternative eh e tante altre iniziative le stiamo portando avanti in ciascun parco soprattutto ecco in questo periodo prima di estivo dove c'è un grosso afflusso turistico quindi è più facile raggiungere più persone formarle informarle dare una una maggior ehm visione a miglior visione magari più completa su degli aspetti che forse troppo sono trascurati e quindi qui chiudo grazie per questa possibilità e buon proseguimento. Perfetto grazie mille ricordo che Giorgio Davini è dell'ente parco nazionale Gran Sasso Monti della Laga che è capofila del raggruppamento dei parchi nazionali dell'Italia centrale per il progetto biodiversità la direttiva biodiversità del mite. Passerei adesso la parola a Giovanna Di Domenico a cui chiedo di condividere la sua presentazione PowerPoint. Giovanna ci porterà un esempio di valorizzazione della sottospecie di apis mellifera ligustica nell'ambito di un altro progetto in questo caso è un progetto live dedicato alla conservazione del dell'orso Bruno Marsicano che eh ha eh piacevolmente iniziato a frequentare occasionalmente anche il territorio del parco nazionale dei Monti eh dei Monti Sibillini. Dalla sua presentazione vedremo eh come la tutela del dell'apis mellifera ligustica può eh diventare anche strumento di eh di valorizzazione e di marketing per gli apicoltori che saranno coinvolti e in in questo progetto. Eh prego tutti gli relatori che non intervengono di chiudere i loro microfoni e ricordo a chi ci segue di poter fare di possono fare le domande nel commento della pagina Facebook. Giovanna a te la parola. Grazie mille Franco spero che possiate vedere bene la presentazione. Sì sì la vediamo. Perfetto. Eh allora io sono Giovanna Di Domenico sono una collaboratrice del parco nazionale della Maiella e chiaramente apro questa mia questo mio breve intervento ringraziando gli organizzatori per questa per questo invito e per questa opportunità che ci hanno dato di poter presentare questa questo progetto e di poter raccontare questa storia. Eh quello di cui brevemente vi andrò a parlare è appunto la storia del marchio Bear Friendly e ehm come questo marchio ha incontrato l'apemellifera ligustica e come vedete dal titolo una storia di impegno e eh responsabilità. Io ho l'onore di essere il portavoce di questa di questa storia ma naturalmente dietro ci sono tante persone di del parco nazionale della Maiella e WF Italia che stanno lavorando insieme a questo progetto. Eh prima di tutto in che cosa ehm dove si inquadra questo progetto del marchio Bear Friendly dove è nato? È nato all'interno del progetto LifeArc Prom che è un progetto europeo mirato a allo scopo diciamo ultimo di migliorare la coesistenza uomo orso e eh come vedete qui si eh sviluppa in Italia e in Grecia. In Italia i partner sono il parco nazionale della Maiella e il WF Italia mentre in Grecia ehm le azioni si sviluppano in tre ehm parchi nazionali. All'interno di un progetto che ha lo scopo di migliorare la coesistenza uomo orso ehm è previsto un marchio Bear Friendly. Come ha anticipato anche eh Franco ehm la presenza dell'orso bruto marzicano nel parco nazionale della Maiella negli ultimi dieci venti anni è aumentata ed è diventata sempre più tangibile. Questo vuol dire che la comunità ha iniziato a percepire la presenza dell'orso e le interazioni tra l'orso e la comunità sono diventate sempre più frequenti. Nello stesso tempo anche a livello spaziale negli anni la presenza dell'orso è aumentata quindi diciamo che ad oggi ehm la presenza interessa tutto il territorio del parco non soltanto alcune porzioni come poteva accadere sino a dieci anni fa. Di conseguenza ehm è fondamentale per il parco nazionale della Maiella eh fare in modo che l'orso nel proprio territorio ritorni ad essere un valore una parte integrante del proprio territorio e ehm ritorni insomma questa eh coesistenza tra l'uomo tra l'uomo e l'orso. Nello stesso tempo nel nel parco nel territorio ci sono operatori ci sono persone che lavorano quotidianamente che attraverso il proprio lavoro effettivamente già partecipano alla tutela di questo dell'orso eh in maniera più o meno consapevole ma comunque attraverso le erozioni di fatto stanno aiutando il parco a portare avanti la strategia di conservazione. Questi due passaggi insieme hanno creato appunto eh la eh volontà di creare il il logo ober friendly ehm eh in modo tale che l'orso possa diventare effettivamente poi un simbolo esso stesso è un portavoce di questi valori che sul territorio ci sono già e che contribuiscono appunto alla alla sua tutela. A chi è rivolto il marchio ober friendly? Per capire a chi rivolgerlo il WF Italia ha svolto un'indagine molto accurata di ehm quali sono i portatori di interesse che si trovano sul territorio e anche di eh quali sono le attività economiche insomma siamo andati a vedere che cosa avevamo e insieme abbiamo deciso di avere come aprivista di questo progetto gli apicoltori e gli agricoltori. Gli apicoltori che contribuiscono alla eh conservazione dell'orso, alla coesistenza direttamente soprattutto attraverso la riduzione dei danni usando le le recinzioni elettrificate ma anche indirettamente perché appunto appunto allevando gli impollinatori contribuiscono ad avere un ecosistema più funzionale e quindi migliore anche per l'orso. Nello stesso eh nello stesso modo gli agricoltori che applicano alcune tecniche di produzione come la coltivazione bio oppure la eh l'utilizzo la coltivazione di varietà locali o ancora l'utilizzo di metodi a basso impatto di fitosanitari anche quello contribuisce a creare un ecosistema più funzionale e dunque migliore per l'orso. Ehm come abbiamo sviluppato dunque il progetto? Chiaramente il primo passo è stato quello di definire i criteri per l'attribuzione del marchio e questo è stato fatto con un lavoro eh enorme di WWF Italia ehm in particolare di Franco Ferroni e Carolzini che hanno lavorato su questo e hanno redatto un un primo documento dove chiaramente c'erano dei criteri di tipo spaziale quindi è necessario che la le produzioni avvengano all'interno di un'area di interesse per il parco della magliella così come tutta un'altra serie di criteri che eh andavano a toccare soprattutto il fatto di avere delle misure di prevenzione del danno e l'impegno da parte dei potenziali beneficiari di ehm farsi eh ambasciatori per il messaggio di consistenza attraverso la divulgazione di ehm del materiale fornito dal parco. Eh tuttavia ehm abbiamo deciso insieme di eh sottoporre questa eh questo disciplinare che era stato redatto ad un percorso di partecipazione. Eh che cosa abbiamo fatto? Abbiamo voluto attivamente coinvolgere i potenziali beneficiari nella stesura del disciplinare perché ehm chiaramente è fondamentale che eh questo tipo di prodotto sia ehm ehm recepito dalle persone che si trovano sul territorio e di conseguenza che possa effettivamente rispecchiare quella che è la realtà territoriale. Quindi era fondamentale che ci fosse un processo di coinvolgimento ma come eh ripeto il coinvolgimento non si è limitato a appunto condividere questo disciplinare ma i beneficiari sono stati chiamati i potenziali beneficiari sono stati chiamati proprio ad esprimere il proprio parere a eh leggere il disciplinare, spulciarlo, trovare le incongruenze, trovare cosa bisognava cambiare, proporre delle modifiche. Quindi di fatto abbiamo lavorato insieme a loro per arrivare ad una versione finale del disciplinare ed è proprio attraverso questo percorso di partecipazione che l'ape mellifera ligustica è entrata effettivamente di questa storia perché eh è stato proprio da parte degli apicoltori che è arrivato il suggerimento e la volontà di includere una nuova regola nel disciplinare e questa regola prevede appunto che il marchio Bear Friendly, il logo, possa essere effettivamente concesso soltanto a quegli apicoltori che chiaramente per le stazioni rigadenti nell'area di interesse per le quali si viene richiesto il marchio eh allevino possano dimostrare di allevare l'ape mellifera ligustica. Chiaramente questa è una regola che ehm sulla quale insomma avevamo già eh discusso in una prima battuta nella prima nella sesura della prima bozza perché chiaramente per tutto quello che è stato detto sinora è eh fondamentale che sì che i parchi si facciano promotori della tutela di questa avea autottona e quindi ehm per noi era importante che ci fosse effettivamente questa regola nel disciplinare però in una prima battuta non l'abbiamo voluta inserire per ehm non andare a a produrre una una prima bozza di disciplinare troppo specifica e orientare troppo quello che poi sarebbe stato il eh quelli che sarebbero stati i suggerimenti da parte del territorio ma siamo stati davvero molto molto contenti di avere questo input da parte degli apicoltori e di poter effettivamente poi trasformare il disciplinare del marchio Bear Friendly in un prodotto che possa farsi portatore anche di questo messaggio di conservazione della ligustica che è così importante. Quindi la storia che ehm ci ha fatto tantissimo piacere raccontarvi oggi è appunto una storia di impegno e responsabilità e questo impegno e responsabilità non sono un impegno e responsabilità nostra del parco della Maiella o del VWF Italia ma proprio degli apicoltori del degli apicoltori che lavorano sul territorio che credono in determinati valori e che appunto hanno manifestato la volontà di volersi impegnare per portare avanti questi valori eh e ehm a farli entrare all'interno del disciplinare. In questo caso in questa storia il parco della Maiella è dunque eh ha molto piacere di avere un ruolo ben particolare che è quello di essere in realtà una sorta di megafono un amplificatore di questo impegno e di questa responsabilità che però è eh del territorio eh fornendo uno strumento come quello del marchio Bear Friendly che eh vuole proprio appunto eh diffondere il più possibile la presenza di queste pratiche sul territorio responsabili e a tutela dell'ape menifelare gustica dunque dell'ecosistema dell'orso ma anche chiaramente di di tutti noi. Io ho concluso molto breve spero che il messaggio sia arrivato e se ci saranno domande poi sarò felicissima di rispondere. Perfetto grazie Giovanna sei stata chiarissima esaustiva e in pochissimo tempo ehm vogliamo ricordare che in occasione della giornata mondiale della biodiversità il ventidue maggio il parco della Maiella presenterà ufficialmente il marchio Bear Friendly e mh e poi sarà divulgato e presentato anche ai parchi dell'Italia centrale che hanno una presenza eh continua o occasionale di orso come accade nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini perché l'idea è quello come sempre accade con i progetti live e poi di replicare i risultati del del progetto anche in altri contesti quindi torneremo sicuramente anche a confrontarci con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini che come dicevo ha il il piacere di avere di nuovo qualche orso che occasionalmente frequenta il territorio del del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. A questo punto entriamo nel cuore del nostro webinar io chiedo al professor Tiziano Gardi vediamo se riesce a condividere la sua. Sì che non l'ho girata anche da Alessandro. Perfetto. Allora il professor Tiziano Gardi lo presento velocemente è uno dei massimi esperti di apicoltura lui è sempre modesto ma lo possiamo dire è sicuramente conosciuto da da tutto il mondo del degli apicoltori in particolare è una persona da sempre impegnata proprio nella tutela della della sottospecie dell'ape mellifera ligustica e lo abbiamo con piacere coinvolto nel progetto il ricordo che il WWF Italia collabora direttamente col Parco Nazionale dei Monti Sibillini nel progetto eh BiSafe eh della direttiva biodiversità del eh mite e in particolare eh proprio le le azioni che il WWF porta avanti oltre che le attività di informazione educazione sono proprio legate alla salvaguardia dell'ape mellifera ligustica quindi abbiamo invitato il professor Gardi a fare questo incontro divulgativo aperto a tutti proprio per cercare di trasmettere il valore eh di di questa sottospecie endemica autoctona del nostro eh del nostro paese abbiamo già sentito da da Giovanna eh come la la tutela di questa ape mellifera diventa anche uno strumento eh di di valorizzazione di altri progetti di tutela eh di specie mh più iconiche no le famose specie bandiera secondo noi l'ape mellifera ligustica ha tutti i requisiti per diventare eh un'altra specie bandiera anche del Parco Nazionale dei Monti Sibillini come è già accaduto anche appunto per l'orso per il lupo per il camoscio eh da buzzo che è ritornato eh a frequentare le montagne dei Sibillini a questo punto Tiziano io mi stavo dilungando sperando che tu riuscissi a condividere la presentazione se non ce la fai chiediamo ad Alessandro se la può condividere se mi può dare una mano perché a me oltre che condividi condividi schermo non me lo dà Alessandro riesci tu a condividere la ci proviamo sì scusatemi intanto la prossima la prossima volta Tiziano ti affianchiamo Giulia che ti assiste a casa sì che ti assiste ti chiedo scusa eh io purtroppo sono meno bravo con queste cose eh come dice Franco mi impegno molto e volevo dire anche a Giovanna di Domenico una cosa allora io venerdì sabato e domenica eh attraverso il GAL eh Terre Pescaresi sono stato praticamente nel parco della Magliella dove stiamo non so se lo sa o se lo sai se possiamo darci del tu creando delle stazioni di fecondazione eh a seguito di analisi morfometriche che sono state eseguite dal CREA a suo tempo il progetto doveva partire eh diciamo già da tempo poi con la storia del covid è stato tutto rallentato eh però questi apicoltori si stanno dando davvero da fare per la conservazione della ligustica anche in quell'ambito eh torniamo veniamo a noi intanto vi ringrazio per questa occasione eh perché io sono cinquanta anni che che mi occupo di apicoltura e oltre che essere stato va bene un docente universitario di apicoltura come attività zootecnica eh ho insieme al dottor Marco Petrarchini come apicoltura Agardi Petrarchini e i nostri apiari iscritti eh nel diciamo all'albo nazionale degli allevatori di api italiane che viene gestito dal dal CREA e quindi chiaramente siamo impegnati eh continuamente nella eh produzione e riproduzione e allevamento tutela eh valorizzazione della nostra peautotona anche l'apis mellifera ligustica eh Alessandro se puoi gentilmente eh se no mi dici come posso fare in teoria avrei condiviso ma da quello che mi dici non non si vedo io lo vedo voi lo vedete sì sì allora lo vediamo ma a questo punto devi dare le indicazioni ad Alessandro per andare avanti con la presentazione se gentilmente mi va avanti Alessandro ti chiedo scusa ti dirò grazie ogni volta che c'è da passare beh adesso mi sei andato un po' veloce eh allora vedete che apicoltura come già è stato detto è uguale ambiente più agricoltura eh e le api e gli altri insetti pronubi eh diciamo contribuiscono in maniera fondamentale ma anche con l'impegno umano quindi anche da parte dell'agricoltore che deve impegnarsi ad utilizzare bene il territorio ad evitare l'utilizzo di eh prodotti che eh comunque abbiano un'azione tossica sia eh da un punto di vista eh genotossico che neurotossico nei confronti degli insetti impollinatori eh e chiaramente se tutti insieme collaboriamo alla salvaguardia e valorizzazione della biodiversità ambientale e dei diversi agroecosistemi naturalmente contribuiamo anche alla salvaguardia e valorizzazione della nostra peautotona che è l'api smellifera ligustica grazie Alessandro questo è già stato detto eh l'importanza ambientale delle api è fondamentale purtroppo l'eliminazione di siepi campestre ripariali l'introduzione di monopolture l'impiego di agrofarmaci ha portato alla rarefazione di molti insetti pronubi e eh chiaramente questo ha portato anche alla diminuzione dell'azione impollinatrice svolta dalle api e dagli altri impollinatori e eh purtroppo eh anche in areali come i parchi le riserve naturali eh le zone protette eh l'eliminazione eh e la rarefazione degli insetti pronubi e delle api da miele fa sì che anche molte piante spontanee cominciano a comincino ad avere problemi anche eh di riproduzione e comunque di di estensione nei diversi territori e questo va a inserirsi anche in altri progetti come potrebbe essere quello appunto che ci è stato presentato da Giovanna di Domenico circa circa l'orso. Grazie Alessandro. Allora intanto per per capirci penso che sia noto a tutti che in dopo l'unica ultima glaciazione pur avendo un'origine comune le diverse sottospecie di api da miele la nostra ape l'apis mellifera ligustica è rimasta confinata nel territorio sul territorio italiano eh e non ha potuto più ricongiungersi diciamo con le sue le sue parenti cioè quindi con l'apis mellifera mellifera con l'apis mellifera carmica di cui però comunque abbiamo nelle aree di confine eh una presenza eh anche di non non impurezza ma eh in diciamo così in ibridazione spontanea eh ormai da diversi anni parliamo della prima guerra mondiale e poi anche della seconda guerra mondiale circa la mellifera mellifera e e quindi si hanno popolazioni ibridate in queste aree di confine. Di fatto su tutto il restante territorio della penisola italiana eh l'ape e l'igustica dovrebbe essere eh l'ape autottona ed essere l'unica presente sul nostro territorio. Grazie Alessandro. Eh questo perché eh intanto la nostra apicoltura si perde abbastanza lontano nelle immagini che voi vedete eh sono dei bugni rustici o delle delle assi messe insieme dal dagli agricoltori eh che erano anche apicoltori in cui la nostra ape veniva allevata quindi conforme misure diverse eh con una sua grande adattabilità e a volte eh si trovava anche costretta a dover vivere in dimore che avrebbe gradito forse anche più più grandi. Eh tutto questo eh era eh si si riconduceva ad un'apicoltura di tipo rurale eh in bugni villici che portavano a fine stagione alla distruzione degli alveari attraverso eh l'anidride solforosa e eh alla all'estrazione dei favi contenenti miele che venivano addirittura spremuti manualmente e eh questo è andato avanti diciamo così eh fino ai primi anni del millenovecento addirittura per mia esperienza personale tanto che queste queste foto sono state scattate proprio eh intorno al millenovecentosettantasei millenovecentottantuno eh proprio all'interno del parco dei Sibillini dove era stato organizzato un corso e eh dove recuperammo eh in un'unica annata circa novanta bugni villici e li sottraemmo alla distruzione quindi all'apicidio eh autunnale eh grazie Alessandro eh attraverso questa tecnica di eh travaso in arnie razionali è stato possibile per l'uomo cominciare ad allevare davvero le api senza arrivare a distruggerle annualmente grazie Alessandro eh questa appunto è proprio la tecnica una delle tecniche di travaso dal bugno villico all'arnia razionale attraverso la cosiddetta tecnica del tambusso cioè un sistema che eh permetteva all'uomo battendo contro le pareti dell'arnia di evitare che le api entrassero in volo e cominciassero invece a salire eh anche attraverso l'uso di di strofinacci teli di iuta all'interno dell'arnia in cui poi l'uomo le avrebbe eh potute allevare in condizioni migliori in condizioni migliori perché perché naturalmente all'interno delle armi razionali erano presenti dei telai di legno in cui le api costruivano e costruiscono tuttora i loro favi e quindi per l'uomo è possibile ispezionarle eh verificare la presenza di patologie e soprattutto anche verificare oggi più che mai se sta allevando meno la nostra sottospecie autottona. Grazie Alessandro. Queste sono foto eh del millenovecento undici che raccontano un po' la storia eh dell'Italia e della trasformazione del passaggio da una eh apicoltura eh di tipo primitivo ad un'apicoltura di tipo razionale. Purtroppo queste immagini non sono così nitide ma voi capite che di tempo ne è passato e quindi chiaramente no? Le troviamo e vedete che questa è la costituzione di un apiario che eh a suo tempo veniva recintato non tanto per la presenza dell'orso ma quanto per la presenza di bipedi che eh potevano approfittarsi e eh rubare gli alveari perché a quei tempi il miele era così importante ed era l'unico dolcificante presente sulle nostre tavole. Grazie Alessandro. Eh qui abbiamo soprattutto una bella immagine verso sinistra in cui ad accudire eh le api non è tanto una figura maschile ma eh è una donna no? Eh cosa abbastanza rara quel tempo però di fatto se noi andiamo a verificare anche in bibliografia molti dei lavori delle ricerche che sono state effettuate sulla caratterizzazione dell'apa italiana anche nei diversi istituti universitari primi fra tutti Bologna con l'Istituto nazionale di apicoltura poi trasformatosi in centro per la ricerca agricoltura e ambiente che è l'attuale CREA gestito dal diciamo organo del ministero eh ad occuparsi molto del delle api erano eh delle ricercatrici più che dei ricercatori. Eh questa abbiamo anche una prima immagine di una etichetta eh di un'etichetta diciamo che eh identifica eh in parte a mio parere la peligustica eh perché riporta eh nella sua dicitura sic vos non vobis mellificate sapes che eh praticamente è il diciamo così la chiusura del quarto libro delle georgiche di Virgilio che descrive eh la nostra ape eh autoctona eh tanto tempo fa. Grazie eh Alessandro. Allora intanto eh vedete qui ho citato solo alcuni alcuni lavori anche eh piccoli a volte anche eh non eh diciamo altamente scientifici ma proprio per farvi capire come ci sia stato un grande interesse eh da parte eh di ehm diciamo così eh sia ricercatori eh come posso citare la professoressa Anita Vecchi che fece uno studio nel millenovecentoventisette facendosi inviare da tutta Italia dalle diverse regioni italiane ehm campioni di api per poter poi attraverso un'analisi biometrica eh verificare e poter eh già fare una prima eh diciamo così eh cartografia della presenza o meno sul territorio della penisola italiana eh dell'ape mellifera ligustica. Questo non perché eh quest'ape non fosse autotono italiana o non fosse diffusa nella penisola ma perché dopo la prima guerra mondiale eh gli austriaci avevano portato al seguito degli degli alveari e quindi quella eh diciamo così compromissione del patrimonio genetico dovuto all'immissione di ape carnica eh nella nell'area delle dolomiti bellunesi nervessa della battaglia ma anche nel trevigiano eh era un pochino sconfinata con eh la lo scambio e la commercializzazione delle prime api regine eh grazie Alessandro ecco questa invece è un'immagine in cui possiamo vedere direi una bella ape regina chiaramente non nasce con il puntino azzurro ma sappiamo tutti che a livello internazionale eh annualmente nel 2022 il colore è giallo eh annualmente le regine per la commercializzazione possono essere marcate con il colore dell'anno in tutto il mondo è lo stesso a garanzia della loro età e quindi delle anche delle loro prestazioni. Quello che voglio farvi vedere in questa immagine è che rispetto alle restanti api da miele europeo europee eh quest'ape che chiamiamo eh eh domestica ma che in realtà rimane a tutti gli effetti un insetto selvatico si distingue sia dalla carnica che dalla mellifera e da altre sottospecie anche del nord Europa eh per avere il secondo e terzo segmento addominale di colore giallo arancio molto probabilmente questa eh sua specifica questa sua caratteristica è legata anche al fatto che l'ambiente mediterraneo italiano eh ha forgiato quest'ape con una colorazione leggermente più chiara perché comunque viveva in un ambiente eh diciamo eh forse più caldo e forse più più eh diciamo così più eh disponibile ad accogliere un'ape più chiara rispetto eh alle api scure che invece erano presenti nel nord Europa. Grazie Alessandro. Tanto comunque chi ci segue può leggere le didascalie che sono presenti nella nella eh quest'altra immagine in cui vediamo un bellissimo addome eh di regina di ape ligustica eh ci deve dare delle indicazioni cioè sui caratteri ancestrali e di rusticità e di resilienza presenti in quest'ape. Eh mentre potremmo dire che tutte le api operaie hanno un addome tigrato eh se voi le guardate effettivamente somigliano un po' alla tigre no? La tigre del Bengala. Eh nell'ape regina eh di razza ligustica l'addome invece è di color cuoio la colorazione può variare dal cuoio chiaro al cuoio scuro ma deve avere sempre una terminazione di stale di colore eh scuro tendente al nero come sono neri i suoi occhi come eh nera eh il suo capo eh sono tutte caratteristiche che determinano la rusticità di questo animale e l'adattamento alle più svariate condizioni che il territorio italiano dal nord al centro al sud ha eh diciamo così messo a disposizione di questo insetto plasmandolo eh con un'adattabilità tale da da dover essere eh la sottospecie più esportata nel mondo. Quindi se noi pensiamo a un discorso di conservazione in realtà dovremmo anche dire che come produttori di api ligustiche fin dal passaggio dall'attività dalla picco da un'apicoltura di tipo rurale ad una ad un'apicoltura di tipo razionale quando eh gli allevatori eh di api regine soprattutto della della zona della dell'Emilia Romagna e soprattutto della parte romagnola hanno iniziato a commercializzare regine sicuramente noi abbiamo fatto anche dei danni nel senso che esportandole in tutto il mondo abbiamo soppiantato anche razze autoctone che potevano essere presenti nei diversi territori eh tanto che quest'ape veniva chiamata l'ape d'oro eh non tanto per la colorazione di questi tergiti addominali delle api operaie ma perché rispetto alle api locali riusciva a dare delle produzioni molto elevate in quanto fra le sottospecie di api da miele è la più prolifica esistente al mondo eh grazie Alessandro eh contrariamente per contro no i maschi che vengono chiamati fuchi i maschi ancestrali di 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 api ligustica sono un po' l'opposto delle api operaie cioè hanno un addome di colore nero con piccole anulature di colore eh dorato eh esistono anche dei fuchi che hanno i primi tergiti simili alle api operaie ma se noi vogliamo eh e questo fa parte anche del nostro progetto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini conservare la nostra pea autottona dovremmo tendere proprio a ripristinare eh nelle colonie eh quei fuchi scuri che chiaramente eh sfruttano meglio le condizioni di un ambiente che è pedemontano eh perché perché diversamente da tutti gli altri animali il maschio delle api per poter essere adulto sessualmente maturo e fecondo deve essere eh stato mantenuto bene al caldo deve essere stato ben nutrito e eh siccome il suo apparato riproduttore è portato dentro il corpo eh le temperature elevate favoriscono eh la produzione di spermatozoi e quindi chiaramente un corpo scuro eh attrae maggiormente i raggi del sole e i fuchi che compiono i primi voli per potersi orientare e individuare l'area in cui si accoppieranno con le future regine vergini no eh con un corpo di questo colore tendono a scaldarsi molto di più e quindi anche ad essere molto più eh diciamo così attivi e e e sessualmente diciamo prestanti come potremmo dire grazie Alessandro ecco questa è un po' la differenza che esiste tra eh le tre sottospecie di api presenti in Europa la carnica la ligustica e la mellifera e non dimentichiamoci poi l'ape nera eh siciliana eh che rappresenta eh diciamo per il nostro paese eh la quarta sottospecie presente sul nostro territorio anche se la legge nazionale tre centotredici del duemila e quattro sulla eh disciplina dell'apicoltura eh riconosce eh praticamente come sottospecie autotone la ligustica e eh la siciliana. Grazie Alessandro. Eh chiaramente anche nella nella nel nuovo disciplinare che è stato approvato di recente dal ministerio delle politiche agricole parliamo di dicembre duemila e ventuno eh nel nel descrivere lo standard di razza eh per le due sezioni eh la la ligustica e la eh siciliana eh vengono date eh praticamente viene effettuata una descrizione eh diciamo piuttosto ehm certa e anche direi breve scusatemi eh i termini a volte non sempre corretti ma a me piace molto andare a braccio eh e eh che cosa succede? Che in questa breve descrizione eh se andiamo al punto tre eh la descrizione riguarda eh proprio la nostra sottospecie per questa sezione e la descrive in questo modo. Le api di razza ligustica sono particolarmente attive, docili e cospiccata attitudine all'allevamento della covata grazie anche all'elevata prolificità dell'ape regina. Nonostante l'eccezionale quantità di covata deposta e allevata è poco incline alla sciamatura. Le colonie iniziano ad allevare covata sin dalla fine dell'inverno e mantengono un'estesa area di allevamento indipendentemente dall'entità del flusso nettarifero e pollinifero sino ad autunno inoltrato. Proprio questo suo comportamento che eh potrebbe sembrare anche eh in condizioni avverse se pensiamo ai cambiamenti climatici ma eh senza andare troppo lontano se pensiamo all'annata 2021 che è stata un'annata eh in cui ci sono state delle gelate primaverili tardive e poi eh un'estate che veramente è stata torrida eh eh lì possiamo vedere eh che eh veramente eh la capacità di questa sottospecie autoctona è eh proprio la sua eh capacità di essere resiliente. Cioè di adattarsi anche a condizioni estremamente avverse riducendo enormemente nonostante questa grande capacità eh di produrre eh uova e di avere colonie molto grandi di settanta ottanta mila individui di ridurre proprio le le colonie stesse fino a portarle a a a diciamo così ad una sopravvivenza che per l'apicoltore sicuramente economicamente non è eh positiva ma proprio perché trattasi di un insetto selvatico riesce poi di fronte a a al cambiamento quindi alla ricomparsa di fioriture alla presenza di piogge che garantiscono eh fioriture autunnali a potersi veramente risviluppare eh come eh se fosse un qualcosa di miracoloso no? Eh tanto è vero che eh nel duemila e ventidue in cui le condizioni eh climatiche fino a questo momento sono state completamente diverse la risposta di questo insetto è stata quella di cercare di ricolonizzare il più possibile quei territori che nel duemila e ventuno eh aveva un po' perso proprio legato a a seguito del fatto che l'andamento climatico era stato molto avverso e eh infatti quest'anno in tutta Italia si sta assistendo ad una sciamatura eh molto forte che per l'apicoltore rappresenta eh sì una un costo economico aziendale eh ma se noi torniamo eh a a parlare e a capire che stiamo allevando un insetto non domesticato ma selvatico è il sistema eh naturale di riproduzione delle api e quindi già questa questo sistema questa questo modo di porsi eh di fronte con la sciamatura ci dice che quest'insetto è capace di reagire e di resistere a quelle condizioni che negli ultimi tre quattro anni si sono eh proprio dimostrate completamente avverse alla sua alla sua sopravvivenza oltre che al reddito dell'apicoltore. Grazie Alessandro eh qui entri a cominciamo a entrare nel progetto vedete che comunque esistono dei caratteri distintivi che sono misurabili eh che sono misurabili eh attraverso analisi morfometriche. Questo è ciò che noi abbiamo fatto eh nel progetto Be Safe del Parco dei Sibillini eh diciamo così investendo direttamente gli apicoltori andando nei loro apiari prelevando a caso dei campioni di api operaie che sono state inviate al CREA di Bologna proprio per le analisi morfometriche. Oggi da qualcuno eh diciamo così ehm non non considerate eh come eh potremmo dire eh così attendibili ma che in realtà invece lo sono profondamente eh anche molto di più delle analisi genetiche perché perché le analisi genetiche generalmente riguarda puoi andare avanti Alessandro Grazie eh un solo individuo eh mentre eh le analisi morfometriche riguardano un certo numero di individui dei quali vengono misurati la lunghezza e la larghezza delle ali eh le eh le nervature delle ali che sono tipiche per ogni sottospecie l'indice cubitale che è un rapporto eh fra fra angoli e fra dimensioni e e vedete tutta una serie di parametri come nell'immagine più in basso eh che eh attraverso eh dei simboli misurano angoli lunghezze e eh che sono tipiche per ciascuna sottospecie. Eh un'analisi così accurata può dare all'apicoltore la certezza di allevare al novantacinque novantasette per cento di purezza genetica api appartenenti alla sottospecie ligustica. Voi mi direte perché non al cento per cento? Eh perché purtroppo e per fortuna la natura ha previsto che le api regine eh durante la fase di accoppiamento si accoppino con un numero variabile di fuchi. Eh generalmente questo numero variabile è legato sia alla presenza degli stessi nell'areale in cui la regina si dirige per per potersi eh accoppiare ma anche alla eh diciamo così alla alla salute dell'ambiente in cui questo accoppiamento avviene in quanto più l'ambiente è eh salutare minore alla fine il numero di maschi che servono durante l'accoppiamento perché chiaramente gli agrofarmaci hanno un'azione anche eh sulla eh fertilità dei fuchi e quindi in un ambiente diciamo più inquinato il numero di fuchi deve essere più elevato perché perché ci sono degli studi effettuati anche all'estero non solo sulla ligustica ma anche su altre sottospecie che praticamente eh alcune sostanze sostanze ormonali eh presenti anche nel negli spermatozoi dei fuchi eh fanno capire alla regina quando il volo ehm ve la dico molto brevemente quando il volo deve deve terminare e chiaramente i fuchi che hanno eh un quantitativo di liquido seminale sufficiente ma pochissimi spermatozoi hanno meno di queste sostanze ormonali che fanno capire alla regina quando è ora di rientrare in alveare. Grazie Alessandro. Eh vediamo qui altri parametri che vengono presi in considerazione eh proprio per durante le analisi morfometriche che vengono eseguite e grazie Alessandro e queste analisi hanno eh portato eh a a verificare che eh praticamente all'interno del parco dei sipillini sia per il versante nel versante umbro che nel versante martigiano che è piuttosto diciamo è molto più grande del versante umbro come parco eh ci sono apicoltori che eh pur incosciamente diciamo così non si offendano perché sa ci conosciamo da anni e sanno quanto gli voglio bene e quante quanti incontri abbiamo fatto anche in passato sulla conservazione della ligustica eh eh hanno avuto eh la possibilità di accertare attraverso il progetto del parco dei Sivillini proprio di allevare ancora questa sottospecie autotona come specie endemica all'interno eh del del parco eh penso che avrete letto la la didascalia che ci è riportata in questa slide e quindi eh andiamo avanti Alessandro grazie ecco questo vedete eh è un'immagine che riporta eh l'endofallo quindi l'apparato riproduttore maschile e quella pallina che vediamo in alto a destra è praticamente eh una teca in cui vengono eh viene conserva vengono conservati gli spermatozoi da parte del fuco che subito dopo l'accoppiamento per un fatto proprio fisico eh si deve piegare all'indietro per poter fecondare la regina e eh perde l'apparato riproduttore e e chiaramente muore muore per setticemia muore per per proprio per rottura della dell'apparato eh riproduttore eh grazie Alessandro ecco eh una cosa che stiamo adesso facendo eh diciamo che tutti gli apicoltori eh che partecipano al progetto sono stati forniti del materiale eh per poter attivare la riproduzione di api regine quindi di nuclei di fecondazione eh dei degli strumenti eh compresi i cupolini in cera il picking per poter effettuare i traslarvi e eh nei prossimi giorni li addestriamo proprio ad effettuare questa pratica in modo da riprodursi in proprio le api regine eh gli insegneremo anche a riconoscere al di là eh della certificazione che gli è stata rilasciata dal CREA per quei campioni che sono stati inviati anche eh la possibilità di verificare sugli altri alveari il loro possesso eh la presenza o meno di eh di ibridi che potrebbero essersi eh così naturalmente attraverso la proprio la fase di accoppiamento per sconfinamento di maschi non ligustici eh sia presenti all'interno del parco che eh provenienti dall'esterno del parco perché i maschi possono percorrere anche quindici chilometri in diversi giorni attratti dagli odori virginali delle regine riconoscere anche la differenza fra una regina ligustica e una regina che non che non lo è. Allora quella che vediamo nell'immagine più grande eh è una regina ibrida infatti vedete che il suo addome non ha eh una solo la colorazione cuoio con terminazione di stale nera ma ha presente un addome addome con delle tigrature e se noi osserviamo l'immagine eh voi vedete il mio cursore? Lo vedete il mio cursore gentilmente? Eh no no purtroppo no perché la condivisione ce l'ha Alessandro. Ok comunque c'è un'ape centrale con la eh in messa obliqua che come vedete non ha grazie Franco eh non ha il secondo e terzo tergite addominali di colore giallo arancio ma ce l'ha c'ha l'addome tutto uguale diciamo tutto a segmenti segmenti dello stesso colore e questo che cosa ci dice? Ci dice che eh questa regina si è accoppiata con fuchi estranei e da essa nascono anche api operaie che non sono ligustiche eh quindi la finalità del progetto è quella invece di eh addestrare gli apicoltori a scegliere eh all'interno dei propri alveari eh quelle regine che mostrano una popolazione di api operaie il più omogenea possibile perché questo già ci dà una garanzia che stiamo allevando eh delle la sottospecie autottona presente all'interno del parco e chiaramente eh come come vediamo nell'immagine più piccola quella regina marcata di giallo eh che è il colore appunto di quest'anno pur avendo un addome di color cuoio chiaro non ha quelle striature che sono tipiche eh degli ibridi che vengono commercializzati attualmente eh grazie Alessandro cercherò di andare più veloce perché non so quanto tempo a disposizione in questa immagine potete vedere l'ape di destra che eh presenta il secondo e terzo tergite di color castagna eh diciamo così marrone eh mentre nell'ape operaia l'igustica autoctona che nell'immagine piccola vediamo che il secondo e terzo tergite è ben caratterizzato da questo colore giallo arancio e da peli eh giallo volpe eh grazie Alessandro eh primo caso in Italia eh la regione Umbria attraverso uno studio è riuscito a riuscita a descrivere nel registro eh regionale delle risorse genetiche autoctone cinquantatre varietà e razze eh tra eh vegetali ed animali a rischio di erosione genetica e eh tra queste è riuscita a a descrivere anche l'apismelli per aligustica grazie questo è un esempio che potrebbe essere preso attraverso degli studi anche da altre chiaramente da altre regioni come potrebbero essere le marche per quanto riguarda il parco dei Sibillini o come le iniziative che sono state prese da da alcuni sindaci eh del Pescarese e del Chietino eh che hanno deliberato che nel territorio del comunale non può essere non possono essere allevate api diverse dall'apismelli per aligustica ritenuta api endemica per quel territorio grazie Alessandro ehm queste sono tutte cose che che ci devono aiutare eh a a capire l'importanza delle api eh quindi questo rispettoso silenzio con cui loro hanno operato insieme agli altri insetti impollinatori per la conservazione dei nostri ambienti la conservazione delle della biodiversità di specie erbacee arbustive d'arbore grazie Alessandro eh ancora grazie se puoi andare avanti eh e poi no fermo un attimo se puoi tornare indietro eh con delibera del due ottobre duemila e venti l'assessorato regionale della regione umbria ha istituito su richiesta di di allevatori che certifichino possano certificare attraverso il CREA o altro ente certificante certificatore eh la eh di allevare esclusivamente e questo lavoro deve essere fatto di monitoraggio e e e analisi di all'assimorfometrica diciamo su tutti gli alveari eh di di proprietà di quell'apicoltore può richiedere e quindi tutte le regioni come per esempio la regione Lazio che ha deliberato che nel Lazio si può allevare solo l'igustica oppure la regione Emilia Romagna che ha deliberato anche essa che si può allevare eh la ligustica può istituire con eh delibera eh regionale eh delle cosiddette zone di rispetto cioè delle aree in cui eh assolutaissimamente non possono essere allevate api diverse dall'ape ligustica e secondo me questa è anche una priorità dei parchi delle riserve naturali eh che possono deliberare in una volta che è stato accertato che all'interno dei loro territori è presente l'ape autottona introdurre api diverse diventa un delitto contro lo Stato e contro il patrimonio nazionale grazie questa è una stazione di fecondazione o area di rispetto in cui al centro vedete eh delle cassettine piccole di colorazione diversa e tutti intorno degli alveari eh anche di diversa dimensione in cui come nel progetto che intendiamo portare avanti all'interno del parco dei Sibillini vengono allevate eh diciamo le regine madri cioè quelle regine che hanno che hanno ottenuto la certificazione dal CREA eh dalle quali si eh otterranno delle regine figlie che verranno adibite alla produzione di fuchi cioè di maschi eh naturalmente eh dalle stesse regine verranno anche prelevate le larve eh che eh verranno immesse in dei cupolini quindi degli abbozzi di celle reali da parte dei singoli apicoltori e poi eh diciamo fatte nascere all'interno eh di nuclei di fecondazione quindi di arniette più piccole eh ma garanti di una buona eh fecondazione e eh assistenza alle nuove api regine da parte delle api che costituiscono la piccola colonia eh in modo da ottenere eh tante regine ligustiche eh nate sul territorio appartenenti all'areale del parco eh e quindi una popolazione eh che sia tipica e propria del parco stesso e che potrà essere diffusa agli apicoltori che eh insistono quindi che insistono che sono eh presenti con i loro apiari all'interno eh del parco e questa sarà la parte eh che verrà sviluppata nel duemila e ventitré con la diffusione eh o di celle reali o di regine eh per eh già feconde per la produzione di fuchi eh perché chiaramente diffondendo maschi eh appartenenti alla nostra sottospecie autottone direi soprattutto alla popolazione tipica del parco eh già riusciamo a eh diciamo così ad apportare sul territorio un cinquanta per cento di patrimonio genetico autottono appartenente alla digustica stessa grazie Alessandro ehm ecco eh questo è il progetto B-Safe di cui sto parlando in collaborazione con VWF Italia eh su diciamo così gestione e direzione del del parco nazionale dei Monti Sibillini eh in collaborazione con gli altri cinque parchi eh l'assessorato della regione Umbria per il versante Umbra dato il suo benestare è disposto anche a costituire le aree di rispetto eh proprio con delibere ehm eh con delibere diciamo così orientate a quel territorio eh gli apicoltori ehm siamo siamo in contatto il ventisei maggio avremo quindi poco a ridosso della giornata mondiale delle api fra pochi giorni avremo il primo incontro con il versante martigiano e eh l'addestramento degli apicoltori al riconoscere e saper scegliere quali sono le colonie migliori all'interno del proprio apiario perché le colonie migliori non sono solo quelle che producono più miele ma sono quelle che presentano caratteristiche proprie della sottospecie autotona apis mellifera ligustica grazie Alessandro Franco non so quanto tempo ho più a disposizione eh possiamo ancora hai ancora un quarto d'ora va bene allora ce la facciamo eh diciamo che la perché perché allevare perché impegnarci in questo lavoro perché cercare di salvaguardare e valorizzare la nostra sottospecie autotona eh e le popolazioni della nostra sottospecie autotona italiana non tanto per spirito di patriottismo ma proprio perché eh il diciamo il tempo eh dopo l'ultima glaciazione eh ha forgiato quest'ape eh con un'adattabilità così grande da riuscire a garantire che cosa non solo le produzioni all'apicoltore eh perché queste potrebbero essere ottenute anche dagli ibridi no ma a far sì che eh conoscendo ed essendosi evoluta eh in un territorio così variegato riesce a garantire anche per quel territorio no la eh valorizzazione della biodiversità ambientale e quindi delle specie vegetali che in esso sono eh presenti. Eh grazie Alessandro. Ecco qui vediamo una distribuzione all'interno del Parco Nazionale dei Sibillini eh sono alveari nomadi eh portati da apicoltori eh per sfruttare diciamo così tra virgolette eh la famosa fiorita del pian grande di Castelluccio di Norcia. Eh allora qui eh al pian grande di Castelluccio di Norcia naturalmente d'inverno le condizioni sono proibitive e molto probabilmente sul pian grande gli alveari non riuscirebbero a a sopravvivere perché l'inverno è troppo lungo e quindi c'è un'attività di nomadismo abbastanza intensa per produrre il famoso miele millefiori di Castelluccio di Norcia. Ma noi dovremmo invece eh e stiamo pensando con il progetto eh Be Safe eh di dislocare all'interno del parco in tutte le aree che permettono la sopravvivenza delle api alveari stanziali e in modo che eh queste siano diffuse a livello capillare su tutto il territorio del parco ma io direi dei parchi che partecipano a a questo eh progetto eh unitario eh e eh questo ci permetterà di garantire eh non solo la salvaguardia e valorizzazione della biodiversità delle popolazioni autoctone di apa italiana ma anche la biodiversità dei diversi territori in modo da conservare la bellezza degli habitat garantire non solo alle api da miele ma anche agli altri insetti impollinatori soprattutto ai monolettici e e agli oligolettici la presenza di specie sul territorio che permettono la loro sopravvivenza perché abbiamo parlato prima appunto di cambiamenti climatici di insetti che hanno bisogno di una certa altitudine di certe temperature anche l'ape ligustica è un'ape che eh sfrutta certe condizioni ha un suo orologio biologico per l'accoppiamento ha un suo orologio biologico di volo eh eh e naturalmente non può eh sopravvivere ad altitudini eh molto elevate dove invece per esempio altri insetti impollinatori eh sopravvivono e garantiscono la presenza di alcune o di una sola specie eh botanica eh e questa è la cosa eh meravigliosa no perché perché spesso eh scusate non ce l'ho con nessuno eh ma per esempio si sente dire che le api sono degli antagonisti degli insetti impollinatori allora io dico che laddove eh la concentrazione supera l'offerta di cibo questo può anche verificarsi proprio perché le api sono insetti polilettici cioè si avvalgono nella presenza di più specie di fiori per trarne nutrimento mentre altre eh specie selvatiche di insetti eh diciamo sfruttano solamente una determinata o poche specie botaniche per potersi approvvigionare di cibo e mantenere vita la propria la propria specie eh però eh l'intervento dovrebbe anche essere quello cioè di fare eh la là dove possibile eh e non solo all'interno dei parchi delle riserve naturali o delle aree protette un'agricoltura che sia più rispettosa eh della degli insetti impollinatori che naturalmente rappresentano no il cibo poi ci sono i garanti del cibo che tutti i giorni troviamo sulle nostre sulle nostre tavole e quindi eh come insetti impollinatori eh ci garantiscono la produzione di frutti, di semi, la rinnovazione delle specie arboree, arbustive ed erbacee, grazie Alessandro e eh chiaramente eh la presenza eh di territori eh vedete come in questo caso dove la diplotaxis e ruccoides è riuscita a rifiorire in autunno nonostante come potete vedere dal colore rosso dell'erba era stato somministrato eh un diserbo. Questo per farci capire che spesso eh gli agricoltori eh sprecano anche eh dei quattrini eh nel cercare di eliminare quelle che vengono chiamate le malerbe e che in realtà eh malerbe eh non le potremmo considerare dipende da ciò che vogliamo coltivare su quel terreno eh perché in questo caso per esempio la diplotaxis eurocoides che fiorisce in inverno eh eh praticamente in autunno-inverno è per gli insetti impollinatori una grande fonte di cibo e soprattutto permette la loro sopravvivenza anche dopo eh estati torride e non presenza di fiori no? Eh se eh l'agricoltore eh chiaramente vuole sfruttare questo terreno per produzioni diverse eh allora ecco anche la diplotaxis e erucoides diventa diventa una malerba. Eh grazie Alessandro. Ecco qui vediamo eh sempre la nostra ape ligustica eh che sta sfruttando fioriture autunnali eh come l'edera e l'inula viscosa eh che sono quelle che garantiscono eh per esempio la possibilità di sopravvivere perché sono molto ricche di polline e sono altamente proteiche le cosiddette api d'inverno cioè quelle api che eh non vivono quaranta quaranta e cinque giorni come in estate ma riescono a vivere anche per circa sei mesi perché la generazione vedete anche la la specificazione la bellezza di questa nostra sottospecie che conosce che eh in Italia eh andiamo dal nord al sud dai stati torri agli inverni che possono essere anche molto freddi o che sono stati in passato molto freddi tanto da fargli produrre l'ultima generazione di api con dei cosiddetti corpi lutei cioè delle delle riserve di grasso che permettono alle api operaie di sopravvivere durante il periodo invernale fin tanto che le nuove generazioni primaverile non le sostituiranno. È un caso quasi unico fra gli insetti. Quindi ecco non possiamo eh noi eh dimenticarci eh di aver avuto questo veramente questo regalo no dalla natura di questo insetto impollinatore che può essere allevato dall'uomo che può darci il miele, il polline, il nettare, gli sciami, le api regine e nel contempo nel suo lavoro no ci garantisce il cibo quindi diciamo il suo eh la sua importanza è è duplice è duplice perché ehm garantisce la conservazione degli ambienti e noi siamo un paese che è un ambiente è un paese agricolo. Noi siamo un paese dai paesaggi, noi siamo un paese dalle bellezze naturali eh che eh trae la sua economia anche indirettamente dalla presenza delle api proprio per la bellezza dei territori che riesce a garantire. Grazie Alessandro una carrellata velocissima perché finisco e dico anche che nemmeno queste greggi se non ci fossero le api riuscirebbero a sopravvivere perché eh probabilmente eh nell'ambiente di pascolo sarebbe presente solamente le graminacee ma non sarebbero presenti le leguminose che invece eh di cui si avvaigono gli insetti impollinatori e che si riproducono attraverso essi. Grazie Alessandro eh veloce una carrellata veloce veloce ancora avanti grazie. Ecco queste bellezze che troviamo dentro il parco dei Sibillini non potremmo probabilmente più vederle se scomparissero gli insetti impollinatori e anche la peligustica che è caratteristica del nostro territorio. Eh io penso di aver finito forse c'è una slide o due ma eh ecco questo è un bello sciame e il risultato della risposta all'andamento stagionale duemila e ventuno eh che è stato molto diciamo così aggressivo nei confronti di questa sottospecie e nel duemila e ventidue vedete che questa sottospecie si riproduce con colonie enormi eh e sicuramente il suo lavoro eh ci garantirà la conservazione dell'ambiente. Potremmo dire che possiamo chiudere la presentazione Franco se siamo fuori con i tempi. No va bene diciamo perfetto se nei tempi io ho una domanda da farti che prego. Ehm se la storia che si racconta del ritorno della della ligustica in Italia che era una specie che era praticamente una sottospecie che era praticamente estinta e che si è potuta recuperare solo perché eh gli immigrati gli immigranti italiani che erano andati all'estero credo in Argentina o in Nuova Zelanda avevano si erano portati dietro alcune famiglie di api e mellifera ligustica e dove l'avete letto? L'ho l'ho trovata letta in in un testo dedicato alle alle api e si raccontavano questa storia del. Allora di recente di recente mi è capitato eh è uscito un articolo ehm in un in una rivista americana anche di spessore non vi dico non vi dico quale eh in cui alcuni ricercatori eh non scoprivano niente eh eh dicevano che l'ape ligustica non esisteva come sottospecie perché era un ibrido no? Allora intanto intanto ricordiamoci questo le api come tanti altri animali no? E forse anche noi no forse anche noi umani no? Abbiamo avuto un'origine comune no? E chiaramente poi che cosa è successo? Che le migrazioni eh sia umane del mondo animale ma anche del mondo entomologico hanno fatto sì che l'ambiente eh ci cambiasse e ci rendesse diversi cioè noi non siamo neri come eh gli africani no? E gli africani non sono bianchi come noi ma noi non siamo nemmeno uguali agli spagnoli o uguali ai tedeschi o uguali agli scandinavi no? Perché l'ambiente ha forgiato eh il nostro DNA utilizzando in una parte eh invece di un'altra. Eh professor Spaterna sono veloce e sono rustico grezzo quando dico queste cose sono poco scientifico ma siccome so che la platea è un po' aperta a tutti eh permettetemi di essere così no? E quindi io ho scritto un qualcosa eh perché mi era stato chiesto di critica a questo a questo articolo eh certo il progenitore comune c'è stato no? Addirittura no? Noi abbiamo avuto eh la digustica ma anche tutte le api da miele europeo cioè proprio le api da miele hanno avuto come progenitore comune l'ape eh scusate eh cerana che non produce miele no? tanto è vero che eh l'acaro varroa che oggi è ancora una minaccia grandissima per le api eh deriva dall'ape cerana no? E anche dopo eh migliaia o milioni di anni eh mentre sull'ape cerana che non produce miele sciama continuamente non produce grossi danni quando è arrivato in contatto con la nostra ape da miele ha potuto reinsediarsi e si è reinsediato creando i danni più grossi perché? perché le nostre api tendono molto meno a sciamare nonostante vi dicevo quest'anno è la risposta all'annata avversa dell'anno scorso ma eh costituiscono delle colonie molto grandi offrendo un pavulum prezioso a questo acaro parassita no? Allora noi siamo stati esportatori cioè nel senso che noi abbiamo esportato circa duecentosettanta duecentottanta anni fa eh le api in Australia la nostra ligustica in Australia dove non c'erano api da miele gli australiani sono stati così bravi che quando hanno capito che cosa si erano portati dentro hanno vietato l'introduzione di qualsiasi altra razza di ape da miele oggi se però dopo duecenti soli duecentottant'anni noi reimportiamo l'ape ligustica dall'Australia come dalla Nuova Zelanda o dall'Argentina no? Come succede purtroppo noi abbiamo già un'ape così cambiata così diversa che non è capace di sfruttare il territorio perché non fa più le scorte cioè quella storia che vi ho raccontato come ultimo dei corpi lutei no? C'è una caratteristica distintiva della della ligustica è quella eh eh Alessandro ha sì è chiuso la presentazione quindi è difficile ma io vi avevo messo come eh terz'ultima e penultima slide un telaino di covata eh delle nostre api ligustiche cioè questo telaio di covata proprio tipico della sottospecie autottona italiana presenta in alto sempre una mezza luna di scorte morte cioè di miele o polline ah perché perché quest'ape dentro il suo DNA sa benissimo che possono arrivare dei momenti in cui c'è penuria di cibo in cui c'è scarsità di cibo quindi ogni favo che lei costruisce o naturalmente o dato fornito dall'uomo deve presentare in alto questa mezza luna di scorte di nettare in alto cioè di miele e poi di polline lateralmente le api che reimportiamo dall'Australia non hanno più questa necessità in duecentottant'anni si sono dimenticati di questa cosa e in autunno non producono nemmeno le api operaie con i corpi grassi che cosa succede che chi fa importazione di questo materiale genetico no si ritrova malissimo così come molte aziende nel duemila e ventuno hanno chiuso i battenti perché allevavano ibridi e non hanno avuto la possibilità di sfruttare questa resilienza che è presente nella nostra sottospecie autoctona cioè questa rusticità questa grande capacità di adattamento che ha portato le colonie quasi per l'apicoltore per come eravamo abituati noi a vederle quasi estinguersi e poi rifiorire come per miracolo no come era successo eh professor Spaterna no quando c'è stato un altro evento molto siccitoso e nel sul lago di Pilato no il famoso chirocefalo chirocefalo no sembrava essersi estinto tanto che ne erano stati prelevati degli individui e portati in laboratorio ma probabilmente questo aveva ci aveva ben chiaro che queste cose potevano succedere se era infilato no sotto e quando la condizione si è ripristinata è ritornato come suol dirsi a galla insomma è tornato in superficie e quindi ecco eh il fatto eh di allevare questa sottospecie eh sicuramente ci darà garanzia anche in futuro di poter conservare bene il nostro territorio il nostro paese. Perfetto c'è un'altra domanda. Prego. Da Elena Curcetti eh del credo del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga eh dice mh grazie professor Gardi per l'intervento per la considerazione sull'importanza delle api da miele che non antagoniste degli apoidei ma eh amiche. Le conoscenze scientifiche che abbiamo sulla vita delle api e sull'allevamento delle api possono ragionevolmente farci fare delle similitudini utili per la conoscenza di apoidei che invece ancora conosciamo poco o niente? Allora eh per me questa è la prima domanda difficile che mi fate. Allora io non sono non sono un entomologo ok? Allora eh sicuramente eh perché non conosco tutti tutti gli insetti anche se insieme al professor Ricciardelli ho scritto un testo sulla biodiversità del Parco dei Sibillini abbiamo parlato eh dei diversi insetti in esso presenti eh però al di là di al di là di questo eh potrei direi di sì direi di sì ma non lo direi con una cognizione scientifica cioè il fatto di questa resilienza di questa resilienza io credo che sia presente anche nei bombi nelle osmie nei sirfidi che sono presenti all'interno del Parco dei Sibillini e che sicuramente possono avere eh come popolazioni eh una certa diversificazione dalle stesse eh razze, specie, sottospecie che possono essere presenti per esempio eh sul Gran Sasso e i Monti della Laga o sul Parco delle Foreste Casentinesi. Allora alcuni di essi saranno addirittura assenti eh ma quelli eh che appartengono a specie eh presenti nell'uno o nell'altro dei parchi molto probabilmente hanno dei cicli comunque diversi che possono essere cicli di durata più breve, comunità più piccole eh anche e lì certo bisognerebbe bisognerebbe avvalersi del del di qualche entomologo davvero davvero bravo e ne esistono sicuramente eh che possa anche verificare che ne so la colorazione, la lunghezza dei peli eh tante altre cose che possono esserci di aiuto per poter caratterizzare eh mi ricordo il professor Antonio Felicioli no con il quale siamo amici no? Ci parlava ora non mi ricordo ma eh ce l'ha detto anche prima non mi ricordo di che di che specie parlasse ma proprio diceva quando le 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 temperature continueranno a salire bisognerà allungargli la montagna perché sennò lui non ci arriva più eh non non mi ricordo quale quale fosse l'insetto no? Il bombo che è una una delle sottospecie di bombo che è stata ritrovata nel parco del Gran Sasso a Monti della Laga e proprio che frequenta le 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 quote più alte del del Gran Sasso. Perché guardate noi anche nella nostra stazione di fecondazione no? Eh non siamo in un ambiente di nomadi perché natura di di apicoltori nomadi perché altrimenti sarebbe stato illogico realizzarla no? È la stessa cosa che abbiamo pensato per il progetto del dentro il parco dei Sibillini per la conservazione della ligustica. Però io eh vedo continuamente ci sono nato no? C'ho sessantotto anni eh sono stato sempre un appassionato di natura eh e vedo che alcune specie alcune specie vegetali no? Sono sempre ancora a tutt'oggi presenti e garantiscono il cibo a un sacco di insetti selvatici quindi sono presenti le osmie sono presenti i bombi nelle loro diverse nonostante lì ci siano quasi duecento alveari con una media di quarantamila api per alveare fatevi il conto no? Io dovrei aver ucciso tutti i bombi tutte le osmie tutti eh gli impollinatori che sono presenti sul territorio per un areale di circa sette chilometri quadrati e invece questo non è successo perché perché quando di cibo ce n'è e ce n'è in abbondanza eh eh diciamo che i numeri anche degli insetti possono essere anche consistenti e vi assicuro che non li ho visti diminuire. Bene io ne approfitto per ricordare che nel l'ambito del progetto BeSafe sono proprio previste delle attività di monitoraggio di tutti gli altri insetti impollinatori dai lepidottiri ai sirfidi agli apoidei condotti proprio in collaborazione con le università che ci citava all'inizio il dottor Davini eh quindi Università di Firenze, Università di Pisa, Università Toregata e mh questo questo monitoraggio è condotto in collaborazione con il centro visita Giardino delle Farfalle dell'ente parco nazionale dei dei Monti Sibillini così come è previsto anche l'allestimento di aree didattiche informative per i visitatori del parco eh queste aree didattiche saranno allestite sempre presso il Giardino delle Farfalle, presso il Credia WWF di San Ginesio e eh presso la sede dell'ente parco a Visto nel nei prossimi mesi. Noi continueremo a fare anche attività di informazione e divulgazione legate al al progetto BeSafe eh nei nei prossimi mesi. Il progetto almeno per quello che riguarda la collaborazione col WWF proseguirà fino a giugno del del duemila e ventitré eh però sì sappiamo che il il Ministero della Transizione Ecologica intende rinnovare anche se parzialmente le direttive eh biodiversità dedicate proprio agli insetti impollinatori per dare continuità a questi a questi progetti di sistema eh dei parchi nazionali e ricordo che tra l'altro il Ministero della Transizione Ecologica ha presentato proprio la seconda bozza della strategia nazionale biodiversità che contiene un ambito tematico specifico proprio dedicato alla tutela degli insetti eh degli insetti impollinatori che valorizza anche il lavoro che i parchi nazionali stanno eh stanno svolgendo. Eh chiudo ricordando che questa questo webinar sarà visibile eh sempre sulla pagina Facebook eh del del Parco Nazionale di Sibilini anche nei prossimi giorni resterà eh resterà in memoria e la registrazione sarà caricata anche sul sul canale sul canale YouTube e daremo un'informazione anche per coloro che non sono riusciti a seguire a seguire questa diretta. Quindi continuate a seguirci sempre tramite i comunicati stampa i canali dell'ente parco. Io ringrazio soprattutto il professor Tiziano Gardi per questo webinar e per l'importante contributo che sta dando allo sviluppo del progetto BeSafe del Parco Nazionale dei Monti Sibilini ma ringrazio anche Giorgio Davini e Giovanna Di Domenico che ci hanno portato grazie a voi grazie a voi. Perfetto io a tutti ricordo che domani è giornata mondiale delle api eh ci saranno varie iniziative ricordo in particolare quella promossa da Ispra che sarà sempre una un'iniziativa online proprio dedicata all'importanza degli insetti degli insetti impollinatori e poi l'invito eh visto che mh devo eh fare un po' di campanilismo concedetemelo domenica giornata eh mondiale della biodiversità ma anche giornata delle osi WF ha deciso quest'anno di dedicarle proprio al agli insetti impollinatori quindi tutte le nostre osi saranno aperte con attività dedicate alla conoscenza del dell'importanza degli insetti impollinatori. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito possiamo a questo punto interrompere la la registrazione e arrivederci a tutti. Grazie a tutti.